della primera è l'ultima c'è il secondo turno dalla prima è la verso, però è l'ultima dalle 2 alle 10 e poi l'abbiamo già fatto e no a 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